Buongiorno e benvenuti al nostro consueto appuntamento un giorno un allenamento oggi siamo qui nella palestra body shape con la nostra allieva Antonietta che ci mostrerà dei piccoli esercizi per le braccia avremo bisogno semplicemente di una sedia sulla quale vi dovrete sedere possibilmente appoggiati ad una parete dovreste avere delle piccole palline anche quelle che giocano i vostri nipoti oppure semplicemente due patate due arance cosa faremo metteremo entrambe gli oggetti che avete a disposizione nelle mani l'esercizio sarà semplicemente sollevare un braccio e toccare il muro dietro guardate braccio aperto palmo della mano rivolto avanti e la pallina che tocca al muro quindi la distanza della sedia dal muro è minima dovreste stare completamente attaccati e ritorno lo stesso lavoro lo farete col braccio opposto e così via di seguito faremo le nostre cinque ripetizioni con il braccio destro e cinque ripetizioni con il braccio sinistro cosa dovete a cosa dovete stare attenti a non sollevare le spalle deve lavorare solo il braccio e la spalla si deve aprire petto aperto non mi devo chiudere petto aperto tanto avete la sedia le spalle e la schiena completamente appoggiate alla sedia fate le nostre cinque ripetizioni a destra e cinque a sinistra ci fermiamo qualche secondo per recuperare e come vi ho sempre insegnato possiamo recuperare disegnando dei piccoli cerchi con le spalle ripeteremo questo esercizio per tre volte di seguito dopo di che passeremo al secondo esercizio lavoreremo se ci riuscite non avete difficoltà su entrambe le braccia lo stesso identico esercizio lo ripeteremo con entrambe le braccia quindi apro e tocco dietro e ritorno avanti sollevo apro chiudo e ritorno sollevo apro chiudo e ritorno anche qui 5 barra 10 ripetizioni sempre in base alle vostre possibilità trascorse le nostre 10 ripetizioni ripeteremo questo esercizio altre due volte quindi in totale tre anche qui prestati attenzione me lo fai un attimo per favore si insieme le tue spalle spingile sempre giù petto aperto ok sguardo in avanti in modo tale da non perdere la postura e ritorno mi raccomando ricordati di respirare è importantissimo prendi l'aria ti prepari fuori l'aria dalla bocca lavori ok ricordati sei seduto su una sedia vicino ad un muro e tu devi riuscire a toccare con l'oggetto che ha in mano una pallina te lo ricordo un'arancia una patata quello che hai in casa devi riuscire a toccare il muro grazie e buon allenamento grazie a tutti grazie a tutti